Mentre bisognerà ancora attendere per capire come si organizzerà il settore trasporti, è stato rinviato l'incontro in programma oggi presso la prefettura tra i vertici delle ditte del settore e i sindacati, la scuola riparte con regole precise. Tamponi obbligatori per il personale docente e non docente delle scuole campane. Lo ha stabilito con l'ordinanza numero 70 il governatore Vincenzo De Luca. Il personale scolastico avrà, ove residente in campagna, l'obbligo di segnalarsi al proprio medico, ovvero al Dipartimento di Prevenzione dell'Aso di Appartenenza, al fine di sottoporsi al test sierologico e al tampone e di esibire i relativi esiti al proprio dirigente scolastico che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero per le scuole paritarie al datore di lavoro. Ove residente in regioni diverse dalla campagna avrà l'obbligo di segnalarsi al proprio dirigente scolastico, ovvero per le scuole paritarie al datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e o al tampone a cura del servizio sanitario regionale. Le disposizioni in questione non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio dirigente scolastico o datore di lavoro di aver effettuato anche su base volontaria test sierologico e o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito negativo. Ai dirigenti scolastici, ovvero per le scuole paritarie ai datori di lavoro, è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alle ASL di riferimento alla scuola i nominativi dei soggetti da sottoporre a screening e di verificare antecedentemente all'avvio dell'anno scolastico che tutto il personale vi sia stato sottoposto, segnalando all'ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultano ancora non controllati. E' demandata alle ASL della regione campagna ogni iniziativa e attività, anche con il supporto meno necessario dell'Istituto Zooprofittico Sperimentale per il mezzogiorno, volta all'espletamento delle attività di screening di cui al presente provvedimento, con ogni sollecitudine e in ogni caso in tempo utile alle aperture di attività scolastiche in data 24 settembre 2020.